...sulla regione di 550 mila abitanti vanno via senza fare ritorno, ci saranno perché... ...e questo strumento democratico che mi sembrano veramente prive di efficacia, credo che sia un ennesimo atto di debolezza... ...per strumentalizzare sicuramente un appuntamento di poter rilanciare definitivamente e percorrere fondamente per un futuro sviluppo del nostro Paese. Allora a questo proposito, quello su cui io voglio sicuramente puntare l'attenzione e mi fa piacere che abbia fatto in qualche modo rilanciare la nostra nazione e il tra peso che abbiamo svolto all'interno del Governo, abbiamo inciso con le nostre idee, con la nostra capacità perché ci autostituceremo e ci metteremo a casa con i nostri idee. E quindi è quello che noi sicuramente non ci auguriamo, per cui questi due anni che restano...